Eccolo qua, uno dei tanti gamberetti infestanti della Louisiana, è la prima volta che li vedo, però effettivamente è abbastanza aggressivo, quantomeno si difende. Mangia il pesce di gomma. Se mi aggancia, su sicuro mi fa male. Grazie. C'è un litro. Grazie. Vai bello, torna in acqua. Finalmente ne ho catturato uno. Fatti vedere quanto c'è brutto. Sì. 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 salami rossi alvo Grazie a tutti.